Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 15 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo pesci. Un po' di socialità, un po' di solitudine. La socialità vi fa piacere, specie se non fine a se stessa ma diretta su qualcosa di utile, volontariato, supporto reciproco, iniziative sportive o culturali da condividere con persone care o almeno conosciute. Ed è proprio ciò che farete stamani, sostenuti dalla luna solida e pragmatica in capricorno. La linea di separazione si avverte verso l'ora di pranzo, con la bianca signora che si abbiocca in acquario nell'oscurità della dodicesima casa e allora anche voi avvertite il forte desiderio di silenzio e di distacco dagli altri. Proprio come i monaci che dopo aver assistito alle funzioni, cantato, condiviso il pasto e il lavoro con i confratelli, si ritirano nella loro cella a pregare. Pomeriggio tranquillo nella quiete di casa vostra, un disco in sottofondo, una candela profumata accesa e poi tanti pensieri, progetti, considerazioni. Fantasticare fa bene, lanciando un desiderio nell'universo prima o poi di verra realtà. Risposta affermativa e positiva al principale quesito posto nel consulto. Buon esito di esami, di colloqui, di chiarimenti, e di qualsiasi cosa vi sta a cuore. Gravidanza in arrivo, acquisto di immobili, nuove attività avviate. In campo economico è un miglioramento della propria posizione. Novità interessanti sul fronte del lavoro per i nati di giovedì e domenica. L'amore va e viene e condizionerà il vostro umore. Posta in arrivo. Qualcuno potrebbe essere realmente interessato a un chiarimento, solo che voi non vi fate avanti e l'altro non vuole piegarsi a chiedervelo. Quindi? Quindi il vostro orgoglio potrebbe soltanto farvi perdere un'occasione preziosa. Cercate di aprirvi più all'amore e di dare più impegno nel rapporto con gli altri, siate più dolci e sappiate regalere sorrisi agli altri. Un cambiamento favorevole nel lavoro. Cura maggiormente il look.Giorno gioioso. Fortuna in amore e al gioco. Un invito da considerare. Fate della pazienza la maggior virtù, oggi dovrete fare ricorso a tutta la vostra diplomazia per superare la mattinata. Vi sentite soli e insicuri. Non cercate ciò che può arrivare proprio quando non è atteso e desiderato. Chiedetevi se per caso in questi giorni non avete ferito qualcuno con il vostro parlare e trovandovi in difetto siate pronti a chiedere scusa per primi, è la miglior cosa prima che qualche amicizia si possa deteriorare irreversibilmente. Non fate grossi progetti per questo periodo, è il momento meno indicato per farne. Amore e lavoro vanno a rilento, non è un periodo in cui gli astri vi sono favorevoli. Non guardate gli altri, ma verso gli altri, dovete essere più disponibili. L'egoismo spesso si nasconde sotto la falsa umiltà. Urano, ospitato nel segno del toro, esalta il vostro fascino dolce, sua dente e Plutone nel Capricorno il Sexapil, se siete nati nella terza decade. Ma, come se non bastasse, anche un altro dei vostri pianeti d'elezione, Nettuno si dispone a formare un aspetto favorevole, donandovi quella adattabilità alle circostanze, così vincente, capace di farvi scansare gli ostacoli. E questa giornata di settembre abbiamo molti corpi celesti che risplendono a vostro favore. Mattinata piacevole incontrando un amico un bar del centro col quale fare due chiacchiere. Niente argomenti futili, con la luna seriosa in Capricorno abbracciata Plutone passatista e proiettata con un trigono uraniano al futuro, si discute di politica, di società e di tutti i problemi di attualità, che con Nettuno nel segno vi colpiscono in profondità e ipersensibili come siete di fronte alle ingiustizie, alla violenza, alle guerre inutili il vostro cuore lacrima e con ragione. Malinconici da tarda mattinata col passaggio lunare nella vostra dodicesima casa, segno che le pressioni scatenate dai movimenti astrali proseguono in solitudine, lasciandovi in bocca un sapore amarognolo, quanta è stupida l'umanità e quanti doni sta sprecando. Amore ed Eros. Quanta gente vi vuole bene fa il tifo per voi, parenti, amici, conoscenti e naturalmente la persona del cuore, questo il presupposto della legge magica, chi ama viene naturalmente riamato. Mercurio e Giove, tra la Vergine e i gemelli, vi invitano ad essere pazienti. Non chiedete troppo se siete ancora all'inizio di una storia d'amore. La configurazione generale se siete nati in marzo vi dona uno smalto esaltante nella conquista amorosa. Marte, Nettuno e Plutone promettono atmosfere irripetibili con la persona amata, tanto da sfiorare quasi la magia di momenti unici. Lavoro e denaro. In mattinata trovate tempo per dare una mano a un amico che vi chiede supporto, una riparazione, un passaggio in auto, un aiuto per effettuare un trasloco voi dal cuore generoso anche stavolta vi dimostrate più che disponibili. Stanchi nel pomeriggio, finalmente liberi di fare quel che vi pare, probabilmente nulla, ve ne starete a casa a meditare, oppure raggomitolati a leggere, dopo una settimana da urlo riposare fa bene al corpo e allo spirito, casomai uscirete in serata, ma solo se gli amici vi faranno pressione. Se siete donne, Nettuno esalta la vostra eleganza e bellezza fisica. Se amate il mare e le condizioni ambientali ancora lo permettono, potrete tuffarvi e immergervi nelle sue acque rigeneranti, che vi doneranno ancora più fascino, freschezza e tonicità. Saturno benefico, consiglia cinema, teatro e evasioni di tipo culturale che offrano una serena distrazione. Perché mai come adesso avreste bisogno di ricrearvi, di recuperare in spensieratezza. Benessere. Pimpanti in mattinata, giù di squadra nel pomeriggio, ma si tratta di malumori di natura lunare che lasciano il tempo che trovano, con il supporto di persone care che vi lasciano sfogare offrendovi una spalla su cui piangere in capo a qualche ora avrete già ritrovate il vostro bel sorriso. Dritta dalla cromoterapia, indossate indumenti rosa o albicocca, passerà prima. Denaro. Con Giove che vi tiene il broncio sarete tentati di fare acquisti in modo impulsivo oggi. Fate più attenzione e non vi abbandonate al classico colpo di fulmine e riflettete prima di procedere a spendere i vostri soldi. Per lei, dopo tante voci, clacson, chiasso, stasera non desiderate che silenzio. È la condizione ottimale per sentire le voci degli angeli, della natura, delle stelle, perché tutto nell'universo parla. Per lui, la voce del silenzio, una bella canzone di Mina che riporta in auge tanti ricordi, persone del passato, situazioni, vite, progetti che non esistono più, ma hanno fatto parte della vostra vita, perciò li ringraziate. Colore delle emozioni, verde mare. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.